Martedì 1 agosto 2017. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Sant'Alfonso. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Alfonso e Speranza. Accadde oggi. Il 1 agosto del 1991 inizia le sue trasmissioni MTV. Il primo video mandato in onda è Video Kill the Radio Star dei Buggles. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo l'attore Giancarlo Giannini, nato alla Spezia il 1 agosto 1942. La citazione del giorno. Una macchina può fare il lavoro di 50 uomini ordinari, ma nessuna macchina può fare il lavoro di un uomo straordinario. Albert Abbard. Dice il saggio. Hai un dente solo? Sorridi con quello. Proverbio del Madagascar. La parola preziosa. La parola di oggi è recrudescenza. È un sostantivo di derivazione latina che indica un notevole aggravamento, la ripresa di un male fisico, morale o sociale, sosseguente a una fase di stasi o di attenuazione. Ad esempio, la recrudescenza di una malattia. La parola di oggi è una malattia.